uè non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone dai e bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi un sacco di novità per quello che riguarda il nostro fortnite oramai siamo entrati alla grande dentro il periodo natalizio siamo a dicembre ultimo mese dell'anno siamo anche sicuri che epi games ci regalerà qualcosa di molto interessante anche perché sappiamo che ogni anno si sparano due settimane di vacanza questa settimana dovrebbe essere la patch 11.30 e poi avremo l'ultimo aggiornamento la 11.40 prima di arrivare al nuovo anno quindi incrociamo le dita e speriamo di vedere tante cose belle che ci accompagneranno ahimè fino a febbraio dove arriverà la season 2 del capitolo 2 due secondi per una leggera velocissima informazione ragazzi vi ricordo se per caso voleste un pochettino di vbucks a prezzi not bad su instagram un ragazzo che io ho avuto il piacere di chiedere il servizio è bundle shop italia vi do sempre un consiglio mi raccomando qualsiasi cosa qualsiasi cosa prendete pagate con paypal in questo modo se ci fossero problemi di qualsiasi natura sarete sempre tutelati quindi mi raccomando ragazzi occhio mi raccomando e dateci dentro ma nel video di oggi volevo appunto parlarvi del dreamhack è terminato è finito vogliamo fare gli applausi a tutti gli italiani che hanno tenuto alta la bandiera appunto nazionale vi do delle informazioni vedremo anche una cosa particolare che benj fish ci mostra dove ci sono stati ben due giocatori bannati dal dreamhack vedremo anche però il gameplay del nuovo ak se qualcuno di voi ancora non lo avesse visto dovrebbe anche questo arrivare prestissimo purtroppo ep games ha smesso di dare le informazioni ufficiali quindi ci basiamo solo su quello che c'è in game davvero interessante e poi una bellissima idea che un giocatore ha esposto direttamente su reddit che è stata presa in considerazione in maniera molto molto intensa da parte della community e che potrebbe dare una svolta a questi 60 giorni di attesa prima della season numero 2 prima comunque volevo ringraziare tutti quelli che ogni giorno passano a farmi compagnia in live dalle 8 alle 18 su twitch grazie mille ragazzi per tutto quello che fate e grazie anche a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xuderone mi raccomando iscrivetevi ai canali e se la trovo attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video ma prima e io la la domandina ve la devo proprio fare ragazzi domandina molto molto interessante questa non ve l'ho mai chiesta ma te quale arma toglieresti immediatamente dal gioco dai un'arma che non ti piace che non serve a nulla cosa che tireresti via subito se dovessi scegliere io ragazzi eliminerei la pistola c'è già quella epica e leggendaria che fa brutto tra l'altro è veramente tanta tanta roba vedo che nessuno utilizza se non proprio allo start la pistolina io la manderei direttamente in magazzino e abbandonerei i ricordi tenendo solamente pistola epica e pistola leggendaria ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a parlare ragazzi del dreamac ho avuto la fortuna di poterlo commentare da venerdì fino a domenica abbiamo visto che c'erano sei italiani in game avevamo vincenzo reckings avevamo ardi sempre del team degli exeed avevamo str simo del team di piazzone ovviamente degli str 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 già iba e poi avevamo se non ricordo male c'era anche nezzac ma io non ho avuto modo né di vedere un gameplay né di seguirlo me l'avete detto voi non ne sono in realtà sicuro al cento per cento innanzitutto li vediamo qua ragazzi ho solamente due immagini del vincenzone ovviamente lo conoscete forse meno conosciuto ardi che in realtà sebbene sia stato il meno conosciuto almeno per quanto mi riguarda è stato l'unico che è riuscito ad arrivare fino alla fase finale di domenica e quindi solo quello merita un grande grande applauso per avere tenuto in alto l'onore nazionale la bandiera italiana come funzionava questo torneo si pagava una quota di partecipazione che era pure bella pesante da spendere c'erano migliaia di iscritti il venerdì e avevano tre part tre prove divise in dieci partite lune per potersi qualificare alla sessione del sabato dalla sessione del sabato solamente in 100 sono andati alle fasi finali la domenica ardi è stato l'unico italiano ad arrivare appunto alle fasi finali e devo dire che ha combattuto alla grande chiudendo alla 65esima posizione il torneo purtroppo la verità la realtà è davanti ai nostri occhi anche nei tornei che non sono diciamo paragonabili alle world cup le speranze che l'italia faccia qualcosa di concreto sono molto molto basse devo dire comunque che noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo giocare purtroppo non in diretta ma seguendo gli altri streamer e si è veramente riuscito a districare alla grande tra l'altro ragazzi oltre a quello che avevo anticipato c'è anche il signor benji fish c'era il signor benji fish e perché ve ne parlo perché ha denunciato una cosa che ha veramente dell'incredibile e che ha portato appunto anche alla squalifica di due giocatori nel torneo benji fish si è accorto che stavano citando due giocatori e volevo appunto condividere con voi il video che vediamo direttamente preso dallo schermo del cellulare di benji fish come vedete ragazzi ci sono c'è un giocatore a sinistra vedete quello là e ce n'è uno ancora più lontano alla sua destra in mezzo a tutto questo ragazzi c'è il povero kushua vedete che sta per uscire adesso il terzo se immaginate che c'è un triangolo quello messo qua e come vedete ragazzi non appena lui mette fuori la testa cominciano a laserarlo in due prepotentemente ammazzandolo senza nessuna pietà benji fish giustamente ha notato questa cosa che era molto insolita e dopo un paio di controlli i membri del comitato del dreamac hanno ritenuto che fosse assolutamente cheating oltre che essere un modo schifoso di giocare devo veramente mettere tutto il mio disprezzo in quello che sto vedendo ed hanno appunto è deciso di bannare i due giocatori che si erano comportati così quindi già benji fish che se ne è accorto e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi è un po che se ne parla ormai del della cappa in versione epica e in versione leggendaria forse alcuni di voi non lo hanno mai visto in game abbiamo uno spezzone anche qua molto molto carino ve lo voglio far vedere vi do anche un po di audio che mentre io vi parlo ci fa vedere innanzitutto eccolo qua davvero tanta roba sarebbe il primo fucile d'assalto pesante di questo capitolo 1 del di questa season 1 del capitolo 2 il fucile è in versione epica e versione leggendaria che appunto doglie un danno da 46 al corpo e 92 in testa ascoltiamo mi alzo l'audio colpi pesanti e secchi tanta tanta roba ragazzi anche per questo nuovo fucile che come già vi anticipavo epic games purtroppo non ci dà informazioni sulla sua data di uscita speriamo di vederlo in questa settimana perché varrebbe davvero la pena avere un'arma nuova non ho modo ragazzi di farvi vedere purtroppo il tempo è già finito il mini pass quindi il concept che si stava in questo momento parlando su reddit ve lo farò vedere domani tanto non scappa via mica io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video di news non ne abbiamo più mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao